Ehi, signore! Si fermi! Ma guardate che pirla! Grazie! Vuoi ammazzarti proprio con la mia macchina, eh? Uè, ma cosa fai? Ma siete impazziti? Che cosa volete da me? Fuori! Ti accomodi! Asci fuori! Sveglia! Si è fatto male! Non ti muovere! Uè, è peggio per te! Forza, salite! Spammo! No! Ehi, polizia! Aiuto! Presto! Che è successo? Mi hanno preso la macchina! Senta! Qui vicino! Mi hanno preso la macchina! Va bene, si calmi! Che auto? Che tivi erano? Ford Milano V1 2337! Sono tutti giovani, ma... ...con una piccola che dacca la tepia... ...non è mica che li ho visti tanto bene! Già, un'arma puntata! Auto 2425 ricevuto! Prendiamo la statale! Voi! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.